Varese Ligure ospiterà domani il Valle Bio Festival, una vetrina per le produzioni di qualità, le produzioni certificate per il nostro territorio, ma anche con tante novità. D'altronde è una edizione nuova, rinnovata anche a causa delle circostanze di quest'anno. Certo, diciamo che la decisione è stata di farla anche in un momento abbastanza complicato, ma di farlo ovviamente con qualche restrizione e sicurezza in più, quindi un giorno e non più due, due giorni torneranno nell'anno prossimo. Siamo alla terza edizione e l'idea dell'impianto rimane quello di sempre, ovvero portare in piazza i produttori biologici e anche l'agricoltura contadina della Valle, i produttori biologici della regione e anche degli ospiti. Avremo il biodistretto del Chianti, quindi col vino famoso in tutto il mondo, biologico. Ospite nostro è anche una cooperativa di Modena, di Serra Mazzoni, che porterà il parmigiano reggiano biologico di Vacca Bianca Modenese. Questi sono gli ospiti, diciamo, fuori regione. E poi un programma sempre fitto nel Borgo Rotondo e nella Sala di Castello, del Castello di approfondimento. Quindi tra i tanti incontri che avremo e su Facebook c'è il programma intero, piacerebbe citarne uno che è quello di Holzer, abbiamo un pioniere del biologico e della biodilizia, che alle 4.15 nel Borgo Rotondo presenterà il suo incontro dal titolo La terza pelle, ovvero dalla terra alla casa biologica. Non mancherà naturalmente lo street food, i pressi di slow food, le aziende del territorio a proporre appunto le loro produzioni. Il territorio della Valdivara è conosciuto come valle del biologico, ma come è cambiato o cresciuto in questi ultimi anni? Allora è cresciuto, negli ultimi anni da quando c'è il biodistretto è cresciuto il 25% di aziende, eravamo 72 e siamo quasi 100. Ora più che aumentare il numero, bisogna adesso aumentare la produttività e la qualità di terminate filiere e diversificare. Noi siamo famosi, la valle è famosa per il latte e per la carne, ma anche altre produzioni, c'è bisogno di fare altre produzioni per avere un paniere più ampio da offrire al turista. E nel contempo bisogna far nascere, questo non è solo compito del biodistretto, ma di tutte le amministrazioni, il comparto del turismo, perché questa è una valle che grazie anche alle produzioni biologiche deve sviluppare un turismo lento, un turismo ecoturismo, un turismo sostenibile, comunque un turismo che non è toccato mordi e fuggi, ma che viene qui e assapora e sta in Valdivara per diversi giorni.